Musica Ciao, allora direi che proprio è arrivato l'autunno e si vede dalle 30 maglie che ho Oggi sfogliamo il nuovo album del Livro Shea, l'album numero 13 che va in doffino al 25 ottobre del 2016 Vedrete tante novità, tante novità di make up soprattutto e anche una promozione interessante più alcune novità è ok Sfogliamolo e poi vi dico Allora eccoci, questo è l'album numero 13 valido fino al 25 ottobre del 2016 e potete vedere sulla copertina i colori perché in questo album ci sono come novità, eccoli qui, tutti questi ombretti Prima di partire però vi dico che con 20 euro di acquisto dei prodotti trucco che ora vi mostro, si ha in omaggio a questa bellissima trusse Partiamo ora con gli ombretti Questi ombretti che sono tutti ecoconcepiti e dalle varie tonalità sono 60 in tutto e siamo in promozione a 12.95.2 Quindi il primo col codice nero, il secondo col codice rosso Qui abbiamo, guardate che belli, tutte le texture scintillanti per l'effetto luminoso Qui tutte quelle perlate, eccole, sempre quelle perlate per l'effetto velutato Texture perlate, sempre anche queste, i verdi, le azzurri fantastici E poi per finire le texture matte, sono per me fantastiche, io le adoro Allora, andiamo avanti, i palotti che conoscivate già, ma che fanno sempre parte del acquistandoli con 20 euro se l'altro l'ultimo maggio Eccoli anche le matite, l'eyeliner Le matite quelle automatiche, le mascara Sempre tutti E poi vediamo l'altra novità, perché questo è il fab colore vegetale È la nuova formula, eccola qui E oltretutto con un nuovo design Contiene l'olio di rosa moschita, quindi è anche bello profumato, delicato E abbiamo questo è l'effetto matte Questo è l'effetto perlato E questo è l'effetto scintillante, colori fantastici Correttori e primer, sempre per 20 euro d'acquisto Eccoli, il fondotinta Ed eccola qua, la pelle perfetta, la cipria Eccoli, il cipro, la terra, i rossetti Tutti i rossetti in matita oppure in stick Le matite labbra, gli smalti concorrono sempre Eccoli No, a questa pagina, questa qui Gli accessori non c'entrano Fino alla pagina dei trattamenti manicure 20 euro e si ha in omaggio la trousse Veniamo ora all'altra rivoluzione del catalogo Perché lo chiamano nuovi struccanti occhi Pur blue Allora, si tratta dei soliti struccanti occhi Che già conosciamo Ma hanno rifatto la confezione Che sono intanto con meno plastica Poi oltretutto è in formato più comodo Anche da portare dietro Oppure da mettere nel mobile E meglio di quello ovale Questo è bello, un bel flacone insomma Ed la differenza è che hanno fatto due formati 200 ml, che è più grande E viene 6,95 euro Oppure il 100 ml, che hanno formato viaggio E viene 4,95 euro Allora questo, il pur blue Ecco, struccante occhi delicato Occhi sensibili E' il solito classico Perfetto per chi ha gli occhi sensibili Che porta dentro a contatto Ed è un valido struccante Però Quello che io amo, adoro E continuerò sempre a ricomprare E' l'occhi bifasico Eccolo qui Perché davvero rimuove tutto il trucco Anche quello waterproof E io continuo ad amarlo Ora l'hanno fatto anche nei formati Quindi davvero Non si può non pensare di prenderlo Allora, eccoci Qui abbiamo sferato tutto l'album Come sempre vi ricordo Che qui sotto Nelle box informazioni C'è il link Per scaricare il catalogo Il formato pdf Così potete tranquillamente guardarlo E vedere tutte le offerte Non solo le novità Le promozioni importanti Che vi ho mostrato io Se no il video diventa lunghissimo E poi c'è sempre anche Tutti i contatti Per contattarmi Per gli ordini Per le informazioni Tranquillamente E vi ricordo che a breve Ci sarà anche il catalogo di Natale Sì è bene Tra poco ci sarà Il catalogo di Natale Già Natale E lo troverete qui Nelle box informazioni Ma comunque vedrete anche Un video specifico E non mi resta che augurarvi Buoni acquisti attualmente profumati Con il magico naturale mondo Vivro She